Non saremo solo noi, il Rai sarà pieno di persone che ti vogliono bene. Più fuori dalla Rai. Più fuori che dentro la Rai. E tu sei in questa... A vedere quelli che hanno deciso la collocazione per il terzo posto, sicuramente non ci vogliono bene. Ma ci racconti, allora, partiamo da lì. Francesco, sai, io evito di parlare della Rai perché non voglio prendere i provvedimenti di civiltà. Questo l'ho già detto. Chi ha scelto la collocazione di spostarci il 27 ottobre? Ma è una cosa che ho già detto. Un'altra volta tagliamo il panettone. Ho l'ho giudicata una mancanza di rispetto. Sigfrido, scusami. Usata come un pacco postale. Di questo ho già parlato, ho parlato anche con il mio direttore. Su, scusami Sigfrido, ma tra un po' tagliamo il panettone, il 27 ottobre. Eh certo. L'arte iniziano come data di feragosto, i programmi, qui tagliamo il panettone. Faremo in modo che quando andiamo in onda, insomma, che si accolgano che le report è andate in onda, tornate in onda. Che dobbiamo fare? Ci hanno altre priorità. Evidentemente le report non è una priorità. Ah, questo uno ne prende atto, eh. Quindi, poi, però, prendendo atto di questo bisogna anche capire il perché. Questo è un atto dovuto. Capire perché. Non è che ci vuole il mago Giulio. No, 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 però qualcuno lo dovrebbe dire. Ammetterlo e dirlo. No, 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 no. No, 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 no. Grazie.